Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Oggi vi aggiorneremo sul calciomercato del Foggia, scopriamo insieme quali sono le novità e gli annunci previsti per questa settimana. Il Foggia è già ufficializzato all'acquisto del portiere Victor De Lucia e del centocrampista Andrea Danzi, proveniente dal Cittadella. Questi due innesti sono stati accolti con grande entusiasmo dai tifosi del Foggia. Il club è alla ricerca di nuovi difensori per rafforzare la squadra. Tra i nomi circolati troviamo Elio Capradossi, ex giocatore della Roma del Cagliari, ma il Foggia sembra orientato verso altre opzioni. Per il reparto avanzato Facundo Lescano è l'obiettivo principale, anche se l'operazione non è semplice. Le alternative includono Jacopo Murano, Adriano Montalto e Don Bolsius, tutti giocatori con un buon record di reti nelle rispettive squadre. Il Foggia è in piena attività sul mercato per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Commentate qui sotto con le vostre opinioni sui nuovi acquisti e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Forza Foggia!